Eccoci con Vito Nicolella, la seconda festa della Vendemmia, la notte bianca della Vendemmia. Vito intento a preparare i cosiddetti canisti in gergo foriano. Vito, allora, è una tradizione che si tramanda ovviamente di famiglia in famiglia. Certamente, da padre in figlio. Riguardo la festa, come prosegue? Molto bene, molta gente, molti curiosi che vengono a guardare. È una cosa molto bella, speriamo che continua fino a quando finiamo. È una seconda edizione, però a questo punto potrebbe diventare una vera e propria tradizione che si rinnova negli anni. La prima, speriamo che questa sia superiore alla prima.